Capitano, quella fascia allora? Te la vedremo ancora anche la prossima stagione oppure vai in ritiro e poi chissà? No, guarda, la mia idea è quella di rimanere, di continuare ad essere capitano del Bari e di vestire questa maglia e dare il massimo per questa città. Poi, per quanto riguarda il rinnovo... La distanza c'è? Poca, tanta? Fammi capire. Ma guarda, sicuramente non stiamo trattando in modo così forte, perché comunque il dettore sta pensando ad altro, perché comunque il contratto ce l'ho. Piano piano valuteremo tutto. La speranza quindi è quella di giocare ancora con questa maglia e di continuare a fare gol per il Bari? Sicuramente, sono orgoglioso di essere capitano di questa squadra, quindi fa piacere continuare a lavorare con il Mista e quindi spero di rimanere. Senti, sembra un po' una squadra di tanti caputo, nel senso tanti giocatori che vengono da categorie anche inferiori e noi che poi magari devono trovarsi in Serie B così all'improvviso. Che tipo di messaggio vuoi lanciare a questi compagni? Molti hanno faccio poco da ragazzini, si vede, insomma, sono giovani del primavere o addirittura c'è qualcuno che viene dall'eccellenza? Un'esperienza che tu hai provato? Sì, sicuramente. Guarda, i giovani devono solo lavorare e seguire ciò che dice lo staff tech o il Mista e solo così possono migliorare. Sicuramente se lavoreranno ogni giorno al 100% daranno un contributo enorme per questo pari.